Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Se mi conoscete saprete che non so resistere alla tentazione di creare delle ghirlande a tema con le stagioni e visto che ci siamo finalmente lasciati l'inverno alle spalle e che la primavera è ufficialmente cominciata, è arrivato il momento di sostituire la mia ghirlanda invernale con una a tema primaverile e per questo 2019 ho scelto uno stile leggermente shabby chic dai toni pastello molto delicati con trasparenze e una scelta di materiali di ispirazione naturale. Vi faccio vedere il progetto finito, ecco qui la mia ghirlanda primaverile di quest'anno, come vedete ancora una volta ho utilizzato come faccio abbastanza spesso un telaio da ricamo in legno che ho abbinato a dei fiori dai toni pastello molto delicati del tulle per creare della trasparenza e poi ho aggiunto un dettaglio dorato per dare un po' più di luce alla mia ghirlanda. Se quest'idea vi piace e siete pronti a saperne di più io vi invito a continuare a guardare questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Un telaio da ricamo, del tulle, della colla a caldo, delle lettere adesive, delle foglie finte, io ho staccato le mie da un mazzetto di fiori finti, dei rametti di eucalipto finti, delle forbici e dei fiori finti a vostra scelta. Iniziamo aprendo il telaio da ricamo e inserendo all'interno il tulle facendo attenzione che sia ben teso. Dopodiché ritagliamo il tulle in eccesso in questo modo. Bene, adesso che la nostra base è pronta iniziamo a disporre le decorazioni in modo da individuare in linea di massima la composizione che vogliamo realizzare. Io sono partita dalle foglie più grandi in basso, quelle più piccole al di sopra e poi ho aggiunto i vari fiorellini più grandi e più piccoli, insomma giocate con i vari elementi finché non sarete soddisfatti del risultato. Ora che abbiamo un'idea di massima possiamo iniziare ad assemblare, incollando con la colla a caldo i vari elementi. Iniziamo con le foglie poi i rametti di eucalipto dopodiché le bacche bianche. i fiori grandi al centro ritagliando la parte di gambo in modo che aderiscano bene alla base dei fiori più piccoli e tutti i dettagli che deciderete di aggiungere. molto bene, adesso prendiamo un ritaglio di cartoncino ed utilizziamolo come riferimento per incollare le lettere adesive. Appoggiamolo sul tulle e disponiamo le lettere a comporre la scritta che abbiamo scelto. Io scriverò welcome. Una volta soddisfatti della disposizione fissiamo le lettere sul tulle utilizzando la colla a caldo. ed ecco qui la ghirlanda finita. Ed ecco qui la nostra ghirlanda primaverile pronta per essere appesa fuori dalla porta oppure perché no anche per essere regalata. Se volete potete sostituire la scritta welcome con il vostro cognome oppure utilizzare questa ghirlanda come decorazione per la camera dei bambini. mettendo all'interno il loro nome. Insomma come sempre lasciate libera la fantasia e interpretate questo progetto come preferite. In ogni caso io spero che l'idea vi sia piaciuta, se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo anche che come al solito sul blog troverete altre immagini del progetto finito insieme alla lista di tutti i materiali necessari con eventuali link per acquistarli online nel caso in cui doveste avere difficoltà a trovarli nei negozi vicino a casa vostra. E ovviamente il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto al video, vi basta cliccare su mostra altro e si aprirà tutta una serie di informazioni per voi oppure cliccando sulla i che comparirà qui sopra la mia testa e vi porterà dritti 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 al mio post dedicato. Per oggi non c'è altro, io vi saluto, un bacio gigante e noi ci vediamo, alla prossima, ciao! Ciao, ciao! Ciao!